Ciao, sono Simone Brancozzi, dottore commercialista, revisore contabile. Oggi vi voglio parlare del documento di indirizzo del Consiglio Nazionale rispetto alla revisione delle nano-imprese, quelle imprese praticamente piccole, quelle imprese che non hanno un'adeguata struttura, un'adeguata set organizzativo, che hanno un sistema informativo limitato, quelle aziende, diciamo così, ritenute non grandi. Ecco, diciamo questo. Ora, io ho tutto il rispetto possibile e immaginabile per coloro che hanno redatto e per il tempo che loro hanno speso per redigere questo documento, ma a parte il fatto che io possa aver letto male, possa aver non visto alcune cose, secondo me mancano due cose fondamentali. La prima è il primo comma dell'articolo 14. Non viene detto nulla. Ora, la revisione dal 16 marzo 2019 è completamente cambiata. La revisione che noi facevamo prima non c'entra niente con la revisione che andremo a fare, perché la revisione che i revisori italiani hanno fatto fino ad oggi è centrata sul bilancio. Si guardava il bilancio fine, non si guardava il going concept, anche se l'ISA 540, è la seconda cosa che manca, imponeva la misurazione della continuità aziendale, che oggi, che in Italia è stata misurata semplicemente facendo una domanda all'amministratore. Secondo lei c'è continuità aziendale? Sì, misurata la continuità aziendale. Non era questo. Ma andiamo con ordine. Cosa dice l'articolo 14? L'articolo 14, primo comma, dice che il revisore deve accertarsi che non ci siano indizi di crisi. Indizi, non prove. E gli indizi di crisi, non le prove, non sono nel bilancio, perché nel bilancio ci sono le prove. Cioè, se io vedo un ROI negativo, vedo un ROI che sta calando, un'immagine di struttura allargato che misura l'equilibrio finanziario, che da un punto di vista tendenziale, quindi di analisi tipo orizzontale, sta scemando e quindi sta quasi per cadere, quella è una constatazione della crisi. Gli indizi di crisi potrebbero essere, ad esempio, la mancata misurazione o la perdita della soddisfazione del cliente. Potrebbe essere un portafoglio prodotti che ormai racchiude prodotti che sono maturi o addirittura che sono nella fase di decadimento. Potrebbe essere un'azienda che non sta innovando. Potrebbe essere un'azienda che non ha un clima aziendale positivo. Potrebbe essere un'azienda che non fa formazione. Potrebbe essere un'azienda dove i soci litigano, dove il Consiglio di amministrazione non è coeso. Sono tutte potenziali cause di crisi. Ora, l'articolo 14, primo comma, dice che il revisore, qualora riscontrasse uno di questi fattori, che non c'entrano niente con il bilancio, deve fare una pecca all'amministratore. E l'amministratore, entro 30 giorni, deve rispondere. Qualora non rispondesse, il revisore deve fare la segnalazione all'OCRI. Ora, in un documento emanato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, di indirizzo verso i revisori, come fa a mancare il riferimento ad una norma che è una novità spaziale. Quindi, prendiamo bene questo documento, che ci dice come fare la revisione del bilancio, ma sappiate che quello è A. Poi c'è B. Quindi, sono due aspetti della revisione, per quantità identica e per responsabilità identica. Quindi, io devo fare la revisione del bilancio, poi devo andare a vedere, a monitorare quotidianamente, e sì, quotidianamente, se l'amministratore, se l'azienda ha delle potenziali cause di crisi. E, devo anche vedere se queste potenziali cause di crisi mettono a repentaglio la continuità aziendale. Quindi, devo fare il monitoraggio della continuità aziendale. Questo tipo di attività, che nei revisori anglosassoni c'è sempre stata, la revisione anglosassone prevede la certificazione del bilancio, la revisione del bilancio, e la misurazione del going concert. In Italia, prima del 16 marzo 2019, si misurava soltanto quella del bilancio. Oggi c'è un altro pezzo. E se tu ti dimentichi di fare quest'altra cosa, anche hai certificato, revisionato, relazionato, fatto tutti i controlli dei rischi, applicato tutti gli ISA che il mondo vuole, ma non hai valutato il going concert e di colpo l'azienda la perde, caro revisore, proprio perché sei stato nominato a tutela dell'integrità aziendale, paghi tu. Perché l'amministratore dice, ma scusate, ho pagato un revisore, oggi io mi trovo in una situazione di crisi che avrei potuto evitare perché i sintomi, chi doveva misurarli, il revisore, non li ha intercettati, quindi siccome io ho la diligenza del buon padre di famiglia, il revisore ha la diligenza da super diligenza, quindi caro revisore, se adesso per il sesto comma 2476 qualcuno mi chiama a pagare i debiti della società, io faccio l'azione di regresso anche se non è un'azione di regresso, ma io chiamo in causa il revisore che ha anche una polizia di responsabilità civile per cui sarà responsabile lui e questa è la stessa cosa anche per i commercialisti. Quindi, allora, in questo documento come si fa a tralasciare una cosa così importante? Ve lo dico e non solo ve lo dico, ve lo segnalo, ma poi vi invito quando accettate questi incarichi di revisione a valutare bene il numero di ore, perché è inutile che mi dice è caro, quando uno dice quanto costa la revisione la domanda è sbagliata, la domanda giusta è quante ore occorrono per fare questa revisione e sul numero di ore non ci può essere mercato, le ore per far bene una revisione sono X, non possono essere né X più né X meno, sono X, nel momento in cui ho stabilito le ore e è chiaro che il corrispettivo è prezzo a ora moltiplicato per le ore, quindi sottolineate queste cose, divulgate questa cosa perché anche qui così come nel caso del 2086 secondo comma è una questione di cultura aziendale e noi per primi dobbiamo evolvere anche segnalando al nostro Consiglio Nazionale che magari facesse un appendice o facesse una seconda parte di questo documento perché quella è la parte del bilancio, adesso mi aspetto che ci sia una seconda parte sulla continuità aziendale, vi consiglio anche alcuni lavori fatti se ne trovano molti sulla continuità aziendale c'è il quaderno 71 ad esempio dell'Ordine di Milano ci sono anche adesso sto facendo io un libro su questa cosa ma sul going concern che è appunto il centro della riforma aziendale della riforma della crisi di impresa del centro del 2086 secondo comma l'articolo 14 primo comma bisogna metterlo al centro dell'attività di revisione il bilancio diciamo che passa quasi in secondo piano un caro saluto da Simone Brancozzi grazie a tutti